Una chiesa in cammino verso la beatificazione di Don Giovanni Fornasini del prossimo 26 settembre. Il sacerdote bolognese fu ucciso il 13 ottobre 1944 a San Martino di Caprara, martire della fede. Nei nostri servizi su 12 porti in questi mesi e sulle pagine del nostro settimanale Bologna 7, ripercorreremo le tappe della sua vita, raccontando luoghi e riflettendo sul suo insegnamento. I primi passi sono una serie di celebrazioni nei luoghi delle sue prime messe, celebrate nel 1942. Un ricco calendario che è partito domenica sera con la messa al Santuario di San Luca e che si concluderà in agosto. A presiedere la celebrazione sul Colle della Guardia, il vicario generale Monsignor Stefano Ottani, che ha ricordato la sua spiritualità mariana e l'amicizia con Don Luciano Gherardi, che è stato ordinato con Don Fornasini e che insieme a lui ha celebrato una delle prime messe proprio a San Luca nel 1942. Don Luciano Gherardi è vissuto molto a lungo e è stato per 40 anni parroco ai Santi Bartolomeo e Gaetano, la chiesa sotto le due torri, ed è stato lui che ha fatto riscoprire alla nostra chiesa di Bologna, ma in qualche modo a tutti, davvero questa testimonianza straordinaria delle comunità martiri di Montesole e di Don Giovanni Fornasini. Secondo appuntamento lunedì 28 giugno nella Cattedrale di San Pietro con una messa che ha voluto ricordare la sua ordinazione. A presiedere la celebrazione alla Vigilia dei Santi Pietro e Paolo, Monsignor Ernesto Vecchi, vescova ausiliare e merito di Bologna. In Don Fornasini la chiesa ha riconosciuto un vero campione del dono di sé. In appena due anni di sacerdozio ha registrato un altissimo indice di ministerialità a tutto campo, spesso intercettato nella sua carità pastorale dall'arroganza dei tedeschi invasori e dalle smagliature di una certa resistenza. Don Giovanni non fu mai un partigiano, come qualcuno ha scritto, ma un vero buon pastore che ha dato la vita per le pecore. La prossima settimana vi offriremo resoconto delle altre celebrazioni.